Il carico era accompagnato da documenti che certificavano l'origine albanese delle maglie intime femminili, ma il controllo ha consentito di appurare che in realtà esse erano confezionate con cello fan trasparente da cui spiccava una fascetta tricolore attaccata alle maglie con impressa la scritta tessuto italiano. Funzionari della Dogana di Brindisi e militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato nel porto un carico di 2477 maglie intime femminili per falso Made in Italy a tutela dell'eccellenza manifatturiera nazionale. La fornitura era destinata a una nota società trevigiana che l'avrebbe commercializzata spacciando il prodotto per italiano. Il titolare dell'azienda è stato denunciato. Solo qualche giorno fa i funzionari della Dogana e i finanzieri avevano intercettato un carico di calzature, questa volta provenienti dalla Grecia, confezionate in maniera identica a quelle di una nota griff internazionale. Anche in quel caso il carico, composto da oltre 2000 paglie di scarpe, era stato sequestrato prima di finire nei negozi di una ditta del nord Italia. La pandemia, insomma, non blocca l'industria della contraffazione che utilizza il porto di Brindisi come terminale di sbarco per i tir carichi di merce falsa proveniente dall'est europeo e destinata quasi sempre a ditte del centro e del nord Italia. Nel 2020, a Brindisi, agenzia delle Dogana e finanza hanno effettuato ben 87 sequestri di merce contraffatta. Si tratta di prodotti di ogni genere, dalle scarpe alle borse, dalle felpe alle maglie, tutto taroccato in maniera sempre più precisa, tanto che sistematicamente gli investigatori inviano campioni e gli esperti delle aziende, i cui marchi vengono riportati sui prodotti per avere conferma della loro contraffazione. Lo scorso 28 gennaio sono state sequestrate più di 3000 borse da donna contraffatte a bordo di un auto articolato proveniente dalla Bulgaria. erano tutte con il marchio Louis Vuitton, destinate a una ditta toscana ed erano talmente simili agli originali che avrebbero potuto trarre in inganno anche i più esperti, una truffa da centinaia di migliaia di euro.